Per presentare i nostri due artisti, perché questi sono veramente artisti, dopo la serata bella di ieri sera, la ventunesima edizione che ha fatto dimostrare un bellissimo successo con la chiesa di Cannero stracolma di gente, è stato un concerto bellissimo che ha sancito veramente il trionfo di Oggionio, perché a 21 anni una piccola frazione che riesce a organizzare per 21 anni di fila una manifestazione come quella che si è svolta ieri a Cannero penso che sia un fiore all'occhiello per tutti gli Oggionizi. E chiudiamo il nostro percorso culturale di quest'anno con il piacere di presentare gli amici, le conoscete, ormai giocano in casa, quindi sono artisti nostri. Otto, beate, quindi appogliamo le donne, applausi. Grazie. 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 Sling, sling, sling. Sling, sling, sling. Sling, 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 sling. Sling, sling, sling. 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 Sling, sling.